Continua la raccolta fondi organizzata da Villa Mediterraneo per la realizzazione di una residenza per anziani nell'area di Markham, una città con un'alta concentrazione di italiani. Una donazione di 800 dollari è stata fatta dalla Italian Seniors Association. Villa Mediterraneo ha già raccolto circa 250 mila dollari tramite l'organizzazione di eventi sociali e culturali con la partecipazione a un'altra della comunità. We're just in the process now of trying to see at what stage the provincial government is at helping us to fund this together with the community who's been very, very supportive. Il dottor Morana si è detto fiducioso che Villa Mediterraneo diventerà realtà e questo è il risultato di Mauro.